Alpen Classica è un festival, come detto, euro-regionale, quindi è una collaborazione tra le regioni di Trentino, Alto Adige e Tirono. Si basa fondamentalmente su quattro aspetti principali. Durante questo festival avremo delle masterclass, ovvero dei corsi di strumento, dove i ragazzi o i musicisti di qualsiasi età potranno perfezionarsi in questi dieci giorni dal 21 al 31 luglio, oltre a questo ogni sera ci saranno dei concerti nelle location più importanti e più suggestive della Val di Sole, dei workshop per ragazzi, quindi dei corsi di musica per coloro che devono ancora avvicinarsi al mondo della musica e oltre a questo grazie alla collaborazione con i tre conservatori, ovvero il Conservatorio Bonporti di Trento, Monteverdi di Bolzano e il Landeskonservatorium di Innsbruck, abbiamo dato via di un progetto di laboratori orchestrali. Per essere più precisi, il festival sarà dal 21 al 31 luglio e la prima edizione avrà nuovo in Val di Sole. In Val di Sole abbiamo scelto questa location, primo perché io sono originario della Val di Sole, ci tenevo a far partire questa iniziativa nella Valle dove sono nato e soprattutto perché c'è stata una grande e fondamentale risposta da parte dei comuni, della comunità di Valle, delle casse rurali, dell'APT, delle funivie e di tutti gli sponsor privati di Valle che hanno creduto e contribuito in questo progetto.